Sformato di zucchine in padella a modo mio, iniziamo! Lavate e tagliate le zucchine a fette. Olio in padella. Fate cuocere qualche minuto le zucchine. A fiamma media fino a doratura. Una volta cotte le mettete su carta per fritti. In una padella un filo d'olio. Fate un primo strato di zucchine. Sale, il prosciutto cotto, la scamorza, la ricotta, il basilico spezzettato e coprite con le altre zucchine. Un altro po' di sale. Alla fine parmigiano grattugiato. E la riportate sul fuoco. Coprite e fate cuocere circa 10 minuti. A fiamma medio-bassa. Sformato di zucchine in padella pronto! No. No,де dopo bombare. No.